Soltanto in Dio va cercata la vera consolazione. Qualunque cosa io possa immaginare e desiderare per mia consolazione, non l'aspetto qui, ora, ma in futuro. Cheppure se io potessi avere e godere da solo tutte le gioie e le delizie del mondo, certamente ciò non potrebbe durare a lungo. Sì che, anima mia, non potrai essere pienamente consolata e perfettamente confortata se non in Dio che allieta i poveri e accoglie gli umili. Aspetta un poco, anima mia, aspetta ciò che Dio ha promesso e avrai in cielo la pienezza di ogni bene. Se tu brami disordinatamente i beni temporali, perderai quelli eterni del cielo. Dei beni di quaggiù devi avere soltanto l'uso temporaneo col desiderio fisso a quelli eterni. Anima mia, nessun bene di quaggiù ti potrà pagare perché non sei stata creata per avere soddisfazione in queste cose. Anche se tu avessi tutti i beni del mondo, non potresti essere felice e beata, perché è in Dio, creatore di tutte le cose, che consiste la tua completa beatitudine e la tua felicità. Non una felicità quale appare nella esaltazione di coloro che amano stoltamente questo mondo, ma una felicità quale si aspettano i buoni seguaci di Cristo, quale talora è pregustata, fin da questo momento, da coloro che vivono dello Spirito e dai puri di cuore, il cui pensiero è già nei cieli. Vano e di breve durata è il conforto che viene dagli uomini. Santo e puro è quello che la verità fa sentire dal di dentro. L'uomo Pio si porta con sé dappertutto il suo Consolatore Gesù e gli dice «O Signore Gesù, stammi vicino in ogni luogo e in ogni tempo. La mia consolazione sia questa di rinunciare lietamente ad ogni conforto umano. Che se mi verrà meno la tua consolazione, sia per me di supremo conforto appunto questo tuo volere, questa giusta prova, poiché non durerà per sempre la tua collera e le tue minacce non saranno eterne». Grazie a tutti.